Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Luca Jurman torna a scagliare critiche contro il talent di Maria De Filippi, amici. Il musicista, già protagonista di tensioni con la produzione del programma, ha dichiarato che il talent non è più una vera scuola. La sua polemica si concentra sull'eccessiva presenza degli inediti, accusando il programma di ripetitività e mancanza di crescita. Jurman ha anche sollevato la questione dei contratti discografici già stipulati dagli allievi, menzionando esplicitamente il noto cantante Hirama come esempio. Le sue parole hanno acceso nuovamente lo scontro sui social. Cosa ne pensate di questa nuova critica di Jurman Adami? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie mille.